Il mondo cristiano festeggia la nascita di Gesù e l'inizio dell'era cristiana. 1977, quattro anni dopo la guerra del Kipur, Begin e Sadat si incontrano al Cairo. 1996, stretto di Sicilia, affonda una nave con oltre 400 migranti. Commenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Buon Natale a tutti. Nella notte dell'Ottocento, la notte di Natale, viene proclamato Imperatore Carlo Magno.